E quello può essere che ha la moglie e non la voleva far preoccupare. Ma chi è sta moglie Repicona? Raggino Rocasso! Questo si è accista e a me mi stavano tagliando la faccia. Scendi. Pure tu scendi. Signore ma che è stato? Eh, Sina! Luciella, Luciella. Tu e questa toccola! Non mi fate vedere mai più, hai capito? Mio marito fa di cavalli dal sito e basta, non voglio sapere niente. Ma che è sta moglie Repicona? Sì, perché? E mi chiamano toccola a me! E Sina, Sina, ti chiedo curanza, ti ha giustato la faccia, Sina! Sina, 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 Sina!